Bentornati sul canale Non Aprite Questo Vlog Io sono il Gons e oggi sono qua a fare la recensione di Velvet Buds Soul Film distribuito su Netflix Film horror distribuito su Netflix Che sapevamo sarebbe arrivato E che sinceramente mi aspettavo fosse un po' meglio Anche se devo dire che ultimamente il fatto che un film sia prodotto, distribuito Insomma che finisca dentro il calderone di Netflix Sta diventando un po' garanzia di non qualità Ma ci arriveremo insomma parleremo anche di Netflix più avanti Allora Velvet Buds Soul è un film che parla del mondo dell'arte Dell'arte ovviamente dell'arte che si vende L'arte dei galleristi, l'arte degli artisti e dei ricchi che la comprano Perché poi l'arte ragazzi miei l'hanno sempre comprata ai ricchi Ed è grazie a loro che poi ci sono degli artisti che possono mangiare e campare Tramite le loro elucubrazioni artistiche Il film è del 2019 Aspetta che mi aiuto con IMDB 2019 dura 1 ora e 53 minuti ed è diretto da Dan Giroi Che insomma non ha esperienza nel mondo dell'horror E che ha fatto un film che fondamentalmente fa pena Anche se apprezzo il tentativo fa pena Ma la cosa sorprendente Questo Dan Giroi in realtà ha dimostrato anche di saper fare dei film Perché il suo film precedente è un film Aspetta ne parliamo dopo del film precedente Velvet Buds Soul è un film con Jake Gineal René Russo Vi dico solo quelli degni di nota Tony Colette E poi c'è anche John Malkovich Dopo arriveremo anche alla partecipazione di John Malkovich Che si vede che ha firmato un contratto per fare schifezze E deve continuare su questa strada Insomma la storia è di questa assistente in una galleria Che scopre che il suo vicino di casa è morto Ed era un artista E scopre anche che non aveva parenti Che insomma aveva avuto una vita tormentata E che morendo lascia praticamente nel suo appartamento Decine e decine di quadri stupendi Stupendi nel senso che sono molto d'impatto E scatenano molte emozioni Quindi si capisce subito che questo artista era molto bravo Allora visto che non va molto bene la carriera di questa giovane assistente Lei decide di rubare questi quadri E fingere di averli recuperati da un artista Che gliel'ha dati segretamente Quindi non dice di averli rubati o morto fondamentalmente Insieme insomma poi dopo riusciranno a venderli E fondamentalmente si scoprirà che questi quadri sono semi maledetti Insomma questa persona era molto tormentata Ed è riuscita a trasmettere il maligno in questi quadri E questi quadri poi inizieranno a uccidere Allora, allora, non è niente di nuovo, non è niente di originale Nel senso che comunque i quadri che uccidono L'artista demoniaco Oh, cazzo Campane C'è mai stata una campana? Qua si è praticamente materializzata una chiesa Perché non ci sono chiese vicino a casa mia Ed è suonata una campana Questo è sicuramente il segnale di qualche evento soprannaturale Sicuro Allora, il film in realtà fondamentalmente non sa di nulla Non succede niente di che È recitato veramente in maniera molto molto approssimativa Jay Gineyor Che comunque è un attore che a me piace Anche se non lo considero bravissimo Perché c'è sempre sta faccia da pescelesso Così Non è che mi faccia impazzire Però mi piace Perché comunque è strano Che fa la parte di un brillante critico d'arte Che scrive su riviste e su cose Gay Che poi a un certo punto non è più gay E tutte queste cose qua Un po' strana come cosa Non è molto credibile Un po' effemminato La sua recitazione diciamo che la trovo molto stucchevole Poco credibile È tutto recitato e girato in modo molto frivolo Come se fosse una serie proprio per la tv Come se fosse un film tv Non c'è una gran cura dei dettagli La sceneggiatura alla fine non ti prende più di tanto Anche perché gran parte del film non è horror È tutto un preambolo per arrivare al momento in cui questi benedetti quadri uccideranno Però prima che succeda questo passerà un'ora e passano Passerà un'ora almeno Adesso non ricordo esattamente Comunque un vero smaronamento di palle Ma non solo Ci sono anche personaggi come John Malkovich Che fa l'artista Oddio mio L'artista che se non beve più Siccome ha smesso di bere perché era alcolizzato Allora non riesce più a realizzare niente di decente da poter vendere Però non succede niente Insomma questo personaggio non serve a una mazza Non serve a niente La gallerista che è una spietata gallerista che pensa solo ad avere successo Tutta una serie di stereotipi sul mondo dell'arte e di chi se la può permettere Che sono anche un po' stupidi perché sono fatti con un occhio di chi questo mondo lo invidia Lo disprezza perché non ci può arrivare Perché non lo capisce Ho trovato veramente molto stucchevole e poco credibile come viene trattato il mondo dell'arte Come se fossero tutti dei deficienti Come se fossero tutti dei deficienti perché Ah perché loro buttano via i soldi per un quadro o un'opera che non c'è su un cazzo Come dire ah che cazzo paghi Che ne so 30.000 euro un quadro di fontana Adesso ho sparato una cifra che magari ho sbagliato Un quadro di fontana che è solo un taglio con Ecco questo modo di ragionare da paesanotto rincoglionito Livoroso e geloso mi sta sul cazzo Questo film vede tutto questo mondo dell'arte come una gran fregnaccia Invece secondo me l'arte non è una gran fregnaccia per niente Semplicemente le persone ricche se la possono permettere Ma soprattutto per molti è diventato un meccanismo per investire dei soldi senza pagare le tasse È una cosa che i ricchi soprattutto quelli che pensano sempre a fare soldi Ci danno un occhio Ragazzi l'arte è l'arte Cioè una volta veniva commissionata dalla chiesa Che non è che sono proprio dei santarellini Però dobbiamo ringraziarli per tutto il popò di arte che possiamo studiare a scuola E anche per i casi nostri Dal punto di vista dell'horror non fa paura Ci sono degli effetti brutti 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 Ci sono delle trovate che non sono trovate Sono robe veramente da serial fatto male Robe proprio stucchevoli Di scimmie che escono dai quadri Delle robe Poi sai fossero realizzate in maniera impeccabile Con una CGI mostruosa Dici cavolo che figata Invece no sono proprio delle robette così Insomma il film secondo me non riesce per niente Non lascia nulla È proprio venuto male È proprio venuto male E sparirà nei meandri delle produzioni Netflix eccetera Ma perché hanno fatto fare sto film a questo tizio? Io lo faccio sempre a sto ragionamento Penso sicuramente ha fatto qualcosa che era venuto bene Che aveva funzionato Allora vado indietro a guardare E in effetti il suo film di cui insomma tutti parlano È Nightcrawler Che è un film veramente bello Veramente bello ve lo consiglio Non è horror ve lo dico già È una specie di thriller Veramente bello Sempre con Jay Ginojol Che però è bravo In questo thriller è bravissimo Perché comunque il suo personaggio Che è il protagonista è uno psicopatico Nel senso che comunque è stramboforte E lui sembra un pazzo Nel senso è bravo a fare il pazzoide E questo film qua ve lo consiglio Guardatelo assolutamente Mentre invece Velvet Buds So Direi che non raggiunge la sufficienza Non è Allora non è il film più brutto dell'universo C'è di peggio Però ragazzi Non mi aspettavo di più Con quel popò di attori Tra l'altro nel cast c'è anche Non sono solo detto all'inizio Tony Colette Che non mi è piaciuta molto in questo film Ma perché comunque è tirato via Ci sembra che Che gli attori siano andati lì A timbrare il cartellino A fare il film E sono andati via Cioè non è come vederla In ereditari Che è bravissima E si vede che ci ha messo Proprio anime a corpo Per cui io vedendo Tony Colette Ho detto ma sai sarà carino C'è Tony Colette John Malkovich E invece no ragazzi Questi firmano contratti A Forfemi Dei fare 5 film 6 film Probabilmente questo è il meccanismo Per cui a volte Tocca fare anche cose Buttate lì alla cazzo di cane Questo è tutto Per la recensione di Velvet Buds So Che trovate su Netflix Iscrivetevi nei commenti Cosa ne pensate di Velvet Buds So E se volete anche Di Nightcrawler E poi Vabbè Cliccate sulla campanella Per ricevere le notifiche Iscrivetevi al canale Mettete like al video E ci vediamo Al prossimo video Mettete like al video Mettete like al video Mettete like al video